Un bilancio che ancora non si riesce a chiudere. Così il presidente della provincia Vittorio Poma ha intervenuto la nostra trasmissione in punti di vista per presentare lo stato dei conti di Piazza Italia. Pesano i 33 milioni di euro che l'ente deve versare allo Stato che di fatto impediscono al bilancio di pareggiare. Lo scorso anno la situazione venne risolta a dicembre anche grazie al prelievo di 10 milioni dall'avanzo di amministrazione. Una soluzione di assoluta emergenza autorizzata in via eccezionale dallo Stato ma non replicabile. Una mossa che comunque sta dando risultati in termini di opere pubbliche che si stanno via via appaltando. Se non avessimo fatto così oggi non avremmo né impegnato né appaltato i lavori a per il ponte della Becca 2 milioni e 400 mila euro, per il ponte della Gerola 4 milioni e 200 mila euro, per i famosi tappetini cioè gli interventi sul manto stradale 2 milioni 400 mila euro IVA compreso ovviamente, più tutta una serie di piccoli interventi, la sistemazione del ponte di Salice, la sistemazione di una franna Cecima. Per il prossimo futuro però ci sono indicazioni positive. L'intesa fra Unione Provincia e Regione Lombardia firmata la scorsa settimana alla Villa Reale di Monza potrebbe presto dare dei risultati. Non soltanto perché si certifica che il Pirellone si farà carico della manutenzione di diverse strade, ma anche perché permetterà di far arrivare alle province parte dei fondi derivanti dal patto per la Lombardia. Se questo accordo si completa e si dovrebbe completare entro la fine di maggio, alla provincia di Pavia per quest'anno dovrebbero arrivare circa 4 milioni, 4 milioni e 2 di risorse da investire sulla viabilità, prevalentemente sulla manutenzione straordinaria. A fianco di queste risorse potrebbero essercene di ulteriori che seguono un'altra linea di finanziamento sempre dentro al patto per la Lombardia che prevede che le province condividano insieme ai comuni capoluogo, così ha voluto la Regione, l'attribuzione di ulteriori 78 milioni di euro di risorse, quelle destinate genericamente alle infrastrutture, qui dovremo capire che tipo di infrastrutture. Contemporaneamente chiude il cerchio un accordo che noi sigleremo presumibilmente ai primi di giugno con Regione Lombardia a Pavia, come tutte le altre province hanno fatto sul loro territorio, per il passaggio di una quota significativa di strade, di chilometri di strade dalla provincia alla Regione, meglio alla nuova società che Regione Lombardia insieme ad ANAS costituirà con due quote di partecipazione diverse, 60% ANAS e 40% Regione Lombardia.